Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. In queste settimane la nostra rubrica di approfondimento sta scandagliando come le forze politiche presenti in Abruzzo si preparano all'impegno delle regionali del prossimo 10 marzo 2024 e lo facciamo appunto ascoltando i vari punti di vista e anche le piattaforme programmatiche, le scelte per le alleanze e le candidature stesse che saranno in campo per questa sfida. Una sfida che ha già due protagonisti certi, il ricandidato presidente Marco Marsiglio, il candidato di una coalizione comune che lo sfiderà che è Luciano D'Amico. In questi due schieramenti si sono già collocate tutte le liste che hanno annunciato la volontà di partecipare. Tra queste la prima esperienza elettorale alle regionali per azione, il partito di Carlo Calenda, noi ospitiamo in studio con grande piacere Carlo Costantini che fa parte del coordinamento regionale. Buonasera Costantini. Buonasera a lei e a tre spettatori. Ecco, la ospitiamo in questa veste di azione. Andiamo subito sulla domanda che ovviamente lei si aspetterà. Probabilmente c'è stata una fase in cui lei avrebbe potuto ricoprire anche un altro ruolo in questa campagna elettorale di maggiore rilevanza per la coalizione stessa. Ecco, ci ricorda questo passaggio? Ci ricorda perché Carlo Costantini non è candidato presidente della regione per la coalizione antimarsiglio? C'è stato un momento in cui il mio nome è stato sul tavolo, è stato oggetto di discussione, oggetto di analisi. Peraltro questo periodo è durato pure parecchio, credo almeno un paio di mesi. Poi le forze politiche che partecipano al campo largo hanno assunto la loro decisione, che peraltro è interessata una persona che esprime un profilo personale di altissimo livello. Io ho avuto la possibilità e il piacere di parlare con Luciano D'Amico e ho trovato una persona con le idee estremamente chiare e soprattutto non arrugginita, non contaminata da tutti i difetti tipici della politica regionale. Mi è sembrato una persona estremamente fresca, con le idee estremamente chiare e con una visione da economista, che è fondamentalmente quello che è mancato fino ad oggi ad una regione che da 30 anni vede perdere puntualmente chi vince le elezioni. La specificità della nostra regione è che chi vince le elezioni si candida per perle nella volta successiva. Questo perché purtroppo molto spesso non si è tenuto conto di quelli che sono gli strumenti di governo della cosa pubblica. Troppo spesso la politica regionale è stata legata a logiche clientelari ed invece in Luciano D'Amico ho visto una persona, ripeto, con le idee estremamente chiare. Sarà il fatto che è un economista, sarà il fatto che non è contaminato dalle logiche spesso spartitori e clientelari della politica, ma mi è piaciuto moltissimo il suo riferimento ai principi cardine dell'azione amministrativa, che passano per rispetto dei canoni dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, perché l'azione amministrativa deve raggiungere gli obiettivi rapidamente e deve comportare il minor costo possibile, ma anche il criterio che il governo della cosa pubblica passa per l'affermazione dei principi della programmazione e della gestione del controllo. Sono fatti nuovi, direi sconosciuti al governo regionale degli ultimi 30 anni, che dal mio punto di vista rappresentano un elemento di novità. Poi, ripeto, Azione ha vissuto in maniera complicata il passaggio che l'ha vista aderire al campo largo a livello regionale. Non dimentichiamoci che Azione è una forza politica che si pone in una condizione di antagonismo al bipolarismo, che Calenda chiama bipopulismo e si pone in contrapposizione al bipolarismo, perché purtroppo il bipolarismo in Abruzzo, così come in Italia, e devo dire anche in qualche modo a livello europeo, ha comportato la scomparsa del presente. Il ceto politico è prigioniero, no, ha costretto il ceto politico a diventare prigioniero del presente. Il dibattito politico si sviluppa tutto sull'attualità, ma ci sono troppe poche persone che si ricordano del passato, di quello che è stato e troppe poche persone che ragionano per obiettivi, che si pongono agli obiettivi strategici e che pongono in relazione gli annunci agli obiettivi. Noi viviamo continuamente una serie di annunci che il giorno dopo cambiano, perché l'annuncio del giorno prima che ti è servito a raccogliere consensi non ti serve più, ma tutto questo in qualche modo ci allontana dagli obiettivi strategici che in qualche modo dovremmo raggiungere in regione e a livello nazionale. Io quando vedo il dibattito politico di oggi, ripenso a quelli che sono stati i grandi della storia della politica italiana dal dopoguerra fino agli anni 90, mi rendo conto ed arrivo alla conclusione che probabilmente loro non avrebbero trovato spazio alla politica di oggi e i presunti leader con i quali ci confrontiamo oggi non avrebbero mai trovato spazio nella politica dal dopoguerra agli anni 90. Questo perché, ripeto, rimaniamo troppo prigionieri del presente e troppo poco sollegati alla programmazione, alla costruzione del futuro. Il futuro, quando si governa la cosa pubblica, si programma, si differiscono gli obiettivi e poi si annuncia l'investimento. Ma nell'annuncio dell'investimento non ci si può limitare a dire ho impegnato 5 milioni di Euro per rilanciare l'aeroporto. Devi dire con chiarezza dove hai preso questi soldi, in quanto tempo li spendi e quali obiettivi ti prefiggi di raggiungere. Perché la spesa deve essere funzionale al raggiungimento di un obiettivo. E se tu enunci, annunci esclusivamente la spesa, ma non definisci lo scenario che andrà a colpire positivamente l'effetto prodotto a questa spesa, di fatto è fatto un annuncio. E oggi viviamo una contrapposizione politica che non è altro che una serie di annunci. Tutto questo dipende da cosa? Dipende dal fatto che i due poli sono a caccia del consenso del giorno. Vivono condizionati dai sondaggi del momento, ma governare sulla base di quello che il sondaggio di domani ti dirà purtroppo vuol dire allontanare il Paese e la Regione dalla soluzione dei problemi. Questo è il grosso problema e il punto di vista, secondo me, straordinariamente efficace di azione a livello nazionale. Per un partito che si pone in questo modo, a livello nazionale, trovare una sintesi a livello regionale è stato complesso, perché azione non è né un partito di centrodestra né un partito di centrosinistra. Quindi ha dovuto necessariamente sviluppare una riflessione più profonda rispetto ai partiti che già facevano parte del campo largo. Ha dovuto analizzare in concreto ed esprimere un giudizio negativo rispetto all'operato di Marsiglia. ha dovuto tener conto di quello che è stato il profilo. Questo però è stato fatto anche attraverso un sondaggio, proprio per tornare sul discorso che stavo facendo prima. Però a me interessa capire... Del sondaggio non avevamo un gran bisogno. Ecco, in questo sondaggio che cosa è emerso, insomma, di quello che ci può dire dell'orientamento degli abruzzesi circa questi cinque anni? Non di Marsiglio, ma dell'Abruzzo. Ma il gradimento nei confronti del presidente Marsiglio è stato espresso in termini particolarmente bassi, ma credo che altri sondaggi pubblicati a livello nazionale avessero già confermato questo trend. Poi devo dire che il giudizio negativo che i cittadini abruzzesi hanno espresso sull'Abruzzo è un giudizio negativo che i cittadini italiani molto spesso esprimono sul livello di governo di tutte le regioni. Lo ripeto, oggi purtroppo le regioni esercitano poteri e competenze troppo importanti rispetto ai bisogni dei cittadini per come poi viene governata l'attività amministrativa, se solo pensiamo alla sanità, al rilievo che nella vita di tutti i giorni, soprattutto le persone anziane, alla sanità, ci rendiamo conto di quanto impatti il governo regionale rispetto ai bisogni di salute che poi coincidono con i bisogni di vita e di benessere sociale ed economico delle persone, delle famiglie e degli anziani. Quindi obiettivamente a livello nazionale c'è un grado di insoddisfazione molto elevato nei confronti non di tutti ma di gran parte dei governatori e evidentemente Marsilio non è riuscito a discostarsi da questo trend negativo e dal sondaggio che abbiamo commissionato ha fatto emergere delle performance veramente negative che peraltro, ripeto, erano già state messe in evidenza da altri sondaggi che erano stati pubblicati anche sulle pagine dei principali quotidiani. Ma sulle tematiche che vi sono più care, quelle della meritocrazia, quelle dello sviluppo, quelle anche diciamo che vanno oltre una certa idea della sinistra tradizionale con cui però siete alleati, che tipo di ascolto avete trovato da parte di Luciano D'Amico? Ma devo dire un ascolto particolarmente interessato, noi abbiamo messo in primo piano alcuni punti, anzitutto riconsegnare al governo della sanità l'efficienza, l'efficacia, il raggiungimento e gli obiettivi mettendo al centro i bisogni di salute delle persone, cioè la programmazione in sanità non deve essere fatta partendo dalle sovrastrutture, dalle clientele provinciali, dal numero degli ospedali, dal numero dei primari, dal numero dei reparti, il governo della sanità deve partire dai bisogni dei cittadini perché molto spesso vengono trascurati e le decisioni a livello locale vengono assegnate a logiche che spesso sono spartitori e clientelari. E' proprio per questo noi abbiamo detto che la prima cosa da fare a livello regionale nel governo della sanità è quella di svincolare il più possibile la scelta dei direttori generali dalle logiche di appartenenza politica. Noi oggi quando apriamo le pagine dei giornali leggiamo del direttore generale Tizio che fa riferimento alla Lega, del direttore generale Caglio che fa riferimento a Forza Italia, i direttori generali devono fare riferimento esclusivamente ai bisogni di salute delle persone, devono organizzare i presidi ospedalieri in modo ottimale per assicurare il diritto alla salute dei cittadini e conseguentemente devono dipendere il meno possibile, anzi non devono in alcun modo dipendere dalla politica e quindi se è vero che la legge consegna al Presidente della regione il potere di nominare il direttore generale è altrettanto vero che è possibile introdurre dei meccanismi attraverso i quali in maniera trasparente il giudizio venga vincolato magari dal parere espresso da una commissione di esperti indipendenti non di nomina politica che siano messi nella condizione di esaminare il curriculum dei potenziali candidati e siano messi nella condizione di indicare al Presidente della regione il candidato migliore, quindi fuori completamente la politica delle logiche clienterali e fuori completamente la nomina dei direttori generali dai vincoli di appartenenza ai partiti e questo sarebbe già un grandissimo risultato. Il secondo obiettivo che abbiamo posto, ma in larga parte era già ricompreso all'interno della bozza dei programmi che si andava elaborando in quei giorni, era l'istituzione della ASL unica regionale, purtroppo noi viviamo a livello regionale di consiglio regionale un sistema elettorale, io in questo condividevo e condivido la scelta di Marsilio di superare i collegi provinciali, che in qualche modo vedono i consiglieri regionali eletti nel loro bacino territoriale disimpegnarsi per 5 anni alla difesa di quel bacino territoriale, non considerando che al cittadino in quanto tale il bacino territoriale interessa fino a un certo punto, se parliamo di sanità per esempio, al cittadino che risiede a Silvia e che potenzialmente giuridicamente in provincia di Teramo interessa poco il fatto che in provincia di Teramo si facciano alcune cose quando poi lui sceglie l'ospedale di Pescara per curarsi e per salvarsi la vita, è un po' la stessa logica di Nuova Pescara e dei confini che esistono istituzionalmente ma che non esistono di fatto tra cittadini, tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, viviamo la presenza di questi confini istituzionali come strumento di clientelismo e quindi l'idea in qualche modo di superare questi vincoli campanilistici che condizionano e frenano lo sviluppo della nostra regione, basti pensare ai piani sanitari, al piano dell'edilizia ospedaliera, ai ritardi che si sono marcati in tutti questi anni per capire e per comprendere quanto pesa l'appartenenza di un eletto a quel singolo territorio, per comprendere come l'istituzione di una asla unica per esempio potrebbe essere una svolta perché potrebbe agevolare l'individuazione di una centrale unica per gli acquisti, noi in Abruzzo acquistiamo presidi sanitari e li paghiamo molto più di quello che costa nel Lombardia, potrebbe consentirci di sviluppare un ragionamento e una sinergia per esempio tra gli ospedali di Chieti e di Pescara che sono due ospedali che fisicamente distano a 15 km di distanza e che potrebbero lavorare molto meglio se fossero messi nella condizione di lavorare insieme, tutta un'altra serie di opportunità delle quali abbiamo avuto la possibilità di parlare. Altre questioni che abbiamo messo in campo riguardano la burocrazia, riguardano la semplificazione, riguardano l'efficienza, dobbiamo in qualche modo costruire le condizioni perché l'affermazione di un diritto a fare impresa non passi per una serie di autorizzazioni e di concessioni che dipendano da una burocrazia che molto spesso è lenta ed inefficiente, quindi abbiamo chiesto espressamente di mettere in campo nei 90 giorni successivi alla elezione un piano per combattere la burocrazia e l'inefficienza e per consentire a chi vuole fare impresa di aprire rapidamente la propria impresa e di mettere in campo la propria capacità imprenditoriale senza doversi scontrare con la burocrazia. Mancano due minuti, le voglio far dire qualcosa, appunto l'ha accennato su Nuova Pescara, progetto di cui lei politicamente, possiamo dirlo, è il padre attraverso quel referendum, adesso allo stato dell'arte che abbiamo fotografato peraltro anche nella nostra trasmissione venerdì scorso con i tre sindaci, siamo più vicini o più lontani? Ma guardi, siamo più vicini se pensiamo al fatto che Nuova Pescara debba nascere, perché ormai credo che nessuno potrebbe sognarsi nella prossima legislatura regionale di determinare altri rinvii, però siamo più lontani rispetto a quella che è la visione e l'idea progettuale di partenza, Nuova Pescara nasce per guardare al futuro, non nasce per guardare al passato, purtroppo le discussioni di questi mesi che hanno interessato i sindaci e anche il legislatore regionale sono state discussioni che hanno esclusivamente interessato alla conservazione del presente, a conferma del fatto che siamo prigionieri del presente, io in realtà avrei immaginato la costruzione di uno statuto proiettato completamente del futuro e non di uno statuto proiettato e rispettoso dell'esigenza di conservare l'esistente, i municipi funzionano, devono esistere, ma non possono sostituirsi ai comuni e soprattutto non possono rappresentare la perpetuazione dei tre municipi che gli elettori con il referendum hanno inteso superare, abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto alla prospettiva che Nuova Pescara nasca, perché ormai è scontato, Nuova Pescara nasce, nascerà ed è un patrimonio di tutti quanti i cittadini che ci pone all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale ed internazionale, perché è un progetto di fusione straordinario, che è oggetto di studio a livello nazionale ed internazionale, certamente in questi mesi mi aspettavo che il livello di qualitativo del confronto fosse un po' più elevato, invece purtroppo ho dovuto assistere a delle operazioni che, ripeto, tendono alla conservazione di privilegi e di postazioni di potere che dobbiamo superare, Nuova Pescara è altro, Nuova Pescara deve volare alto, Nuova Pescara deve esprimere la capacità dei pescaresi di proiettarsi costantemente nel futuro e purtroppo l'idea di città che abbiamo costruito con lo statuto che abbiamo consegnato alla nascita della nuova città va in una direzione contraria. Bene, io ringrazio Carlo Costantini, non gli ho chiesto ancora se sarà protagonista in prima persona di questa campagna elettorale o comunque gestirà il suo ruolo di partito o anche quello di candidato. No, no, darò sicuramente il mio contributo come lo valuteremo nelle prossime settimane. Grazie allora, potremmo rivederci in qualche tribuna elettorale e appuntamento alle prossime occasioni con Il Fatto. Buona serata. Buona serata a tutti.